ciao amici guardate cosa mi è arrivato dalla footspring un bellissimo pacchettone regalo eccolo qua e non sembra una scatola vuota piena solo di carta e di cartone è un bel pacchettone e c'è una sorpresa non so bene cosa sia vediamolo insieme ho un biglietto prima di tutto adoro i biglietti cara simona qui da footspring si respira già l'atmosfera natalizia ma anche qui si inizia è fantastico ecco un'anticipazione di come addolciremo le lunghe e fredde giornate invernali ce n'è tanto bisogno grazie un abbraccio il team di footspring ma anche a voi amici miei ormai siamo grandi amici grazie eccolo qua il biglietto scritto a mano preziosissimo lo metto qua allora qui ci sono due barattolini so solo che sono top secret non posso farveli vedere fino al 19 novembre quando usciranno sul sito queste fantastiche novità e allora lo vedremo insieme sono molto curiosa e golosa soprattutto di assaggiare sapete che io me li mangio tutti i prodotti footspring un po di carta bye bye se ne va e mai più ritornerà o ecco il nostro pacchetto fantastic guardate che bello che elegante molto minimal molto bello io adoro questo stile è impacchettato a mano e qui c'è una fetta di arancia candita dopo me la mangio via anche tu sacchettone pacchettone vai è sempre emozionante aprire un pacchetto è questo non lo butto perché è troppo bello lo conservo ecco qua siamo via e qui c'è il pacchetto non so se la telecamera riesce a mostrarle si vedono le stelline meglio le vedo credetemi sulla parola anzi ce n'è una anche qui oh che emozione che emozione il pacchettone natalizio che emozione è una bellissima idea questa carta molto molto minimal molto eco bio o la o la winter box della footspring che bellina vediamo cosa c'è dentro comunque allora molto bella molto natalizia caspita questa sì che è footspring allora intanto no partiamo dalla sostanza due shape shake con sapori fantastici questo è pan di zenzero e marzapane più natalizio di così non si può e questo è sapore di cannella ma che cosa sono due polveri shape shake per poter fare dei frullati poter mangiare cose dolci anche nel periodo natalizio senza rovinarci la linea e senza metterle sui nostri fianchi e sulla nostra pancia e servono per iniziare bene la giornata con tante energie e poche calorie oppure per chiudere un pasto quando ci manca qualcosa di dolce e in questo caso veramente un sapore natalizio fantastico ma non solo qui abbiamo questo bellissimo shaker bianco e oro di solito è verde lo shaker della footspring lo so perché è veramente tra i migliori che oh squaletto attenzione alla sorpresa dopo dopo ti faccio assaggiare fammi fare lo shake con shape shake e poi ti faccio assaggiare promesso parola di lupetto allo squaletto chissà se funziona anche lo shaker fa la differenza io lo so perché ne uso tanti e devo dire che questo ha il tappo a vite che non si apre neanche se lo metti in borsa a testa in giù e si capovolge non ci sono assolutamente problemi e poi anche questo è a vite non perde neanche una goccia e poi ha la retina che ti permette di ottenere degli shake veramente perfetti cremosi senza grumi e devo dire che tra i tanti shaker che io ho usato in vita mia questo è il migliore e per me fa la differenza perché lo uso tantissimo anche a casa mia oramai abbiamo tutti gli shaker della footspring in borsa e non abbiamo mai avuto problemi e questo in più è molto bello ed elegante quindi questa bella confezione può essere un vero fantastico regalo natalizio a chi regalarlo sapete cosa penso io sono una persona che pecca di sano egoismo quindi prima di tutto regalarlo a noi stessi eccolo qua e poi se se lo meritano anche agli altri che saranno sicuramente contenti e riconoscenti secondo me iniziare a pensare adesso al regalo di natale è un'ottima idea e quest'anno più che mai è di tendenza il benessere la salute l'alimentazione corretta se in più uniamo un tocco di eleganza e soprattutto l'esperienza footspring non facciamo assolutamente brutta figura anzi penso che possa essere il regalo ottimale quindi io ringrazio gli amici della footspring che sono come sempre sponsor di questi video mi ricordo che se volete ordinare anche voi questa bellissima winter box potete farlo con il codice sconto vignali piccolo y t cioè youtube grande e trovate tutte le informazioni nelle info qui sotto come sempre benissimo quindi amici carissimi mi raccomando non perdetevi dopo il 19 novembre il video con questi prodottini top secret nascosti che non vedo l'ora di scartare e diventate anche voi amici della footspring perché davvero ne vale la pena gli ingredienti sono ottimi altrimenti non ne parlerei i sapori sono fantastici danno tantissima soddisfazione e i risultati si vedono e si sentono sembra una pubblicità se avete domande scrivetemele qui sotto come sempre sarò felicissima di rispondervi e condividete come fate sempre le vostre esperienze le vostre ricettine le vostre soddisfazioni in maniera da farlo sapere un po a tutti passiamo parola quando ci sono cose belle non solo notizie brutte siete d'accordo benissimo se avete domande personali invece scrivetemi alla mail così vi rispondo su come usarli spesso mi scrivete mi chiedete ma durante la gravidanza durante la convalescenza che momento della giornata tranquilli scrivetemi che io vi rispondo come usare al meglio questi fantastici prodotti foodspring bene carissimi amici io aspetto qualche giorno mi avvicino al natale e poi inizio ad assaggiare a dare fondo a queste meravigliose a queste meravigliosi shape shake intanto ordinateli anche voi e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video sempre qui sul canale mi raccomando sempre più trendy e sani con simona vignali naturalmente ciao ciao